Ciao Clotilde, ciao, bentornata, come stai? Tesoro, tutto bene? Piove, ti sei piccata la pioggia? Non mi dire, non mi dire, guarda, si i capelli sono sempre belli, i tuoi capelli sono sempre una meraviglia, guarda ti metto un po' di balsamo labbra perché hai le labbra screpolate, molto molto screpolate, ok? Questo qua di provenzale, biologico, poi ti leggo i capelli, cosa volevi oggi? Come mai sei venuta? Chiudi le labbra, così, ti passo il balsamo labbra, perfetto, non vuoi essere truccata oggi, no? Ok, cosa volevi allora? Dimmi tutto, come stai più che altro? Con questo tempaccio ti sei beccata la pioggia? Lo sapevo, ma non pensavo che venissi a quest'ora, pensavo che aspettassi, smetteva di piovere, che smetteva di piovere Invece tu dici che non smette di piovere oggi? Ok, vabbè, pazienza, guarda, si ho cambiato location, più o meno, ti vediamo, ti vedi solo tu, ecco, l'importante è che ti vedi tu allo specchio, capito? Sì, davanti a te c'è uno specchietto, guarda qua, fai ciao ai nostri amici, che poi guarderanno questo video su YouTube Allora, oggi io prima di tutto ti leggo i capelli con questo elastico, bellissimo che non tira i capelli Adesso non li vendono neanche più questi elastici, bellissimo Poi ti voglio mettere una maschera sul viso, questa qui in gel, bellissima, riposante Bellissima, questa è veramente bellissima sui tuoi begli occhi, è anche un po' grande per te direi Guarda, magari ti sposto un po' a favore di camera Così, perfetto Sì, la candela di Halloween l'hai vista quella là? Vabbè, non profuma, ma fa ambient, visto che il tempo è molto molto nuvoloso Pioggia, temporali Insomma, un po' di tutto, guarda Poi ti curiamo anche con questa spazzolina tutta rosa oggi Un po' le unghie Adesso lo facciamo subito, subito Tu rilassati Un po' le unghie Dell'altra mano Passala qua Avvicinati un po' a me Così, perfetto Ok Ok Voilà, perfetto questo Poi ti spazzolo i capelli adesso o magari dopo se vuoi, che dici? Mentre chiacchieriamo un pochino Adesso sì, ti applicherei quella mascherina Ah, che dici? Poi i capelli si sono sempre un po' mossi Hai anche una spilletta? Hai anche una spilletta, mi sembra Girati un attimo Sì, una spilla c'è Queste qua Però non tengono molto, direi, i tuoi tanti capelli E questa qui tiene poco Ah, sì, scivola L'ho tolta e tesoro la spilla Sì, l'hai sentito? Non ti ho fatto male, vero? Niente, ok Questa qui è molto bella, però Tutta luccicosa Luccicosa Tutta luccicante Bellissima questa spilletta Solo una ne hai, non ne hai più di una Ne hai solo una Ho capito Balsamo labbra messo Carezza la testa Carezza Tante carezze Ok Tante carezze I tuoi capelli Quindi sempre questa ciocca meravigliosa Bionda Sì, tutta bionda, sì, ovviamente Ma questa ciocca qui è proprio gialla Bellissima questa ciocchetta Carina, carina Allora, vuoi che ti leggo i capelli? Vuoi che te li spazzolo subito? Dimmi tu, da cosa iniziamo? Piega le mani così Adesso che sono curate Ma erano già curate prima Ok, così Mani giunte Perfetto Guarda, sì, questo Ok Allora, io ti pettinerai un pochino i capelli Adesso, che dici? E poi facciamo un bel massaggio al viso Con i pennelli Prima di metterti la maschera Poi ti faccio addormentare Con la maschera sul viso Ok Che dici? Va bene, facciamo così Perfetto Sì, ti ho tolto un pochino Tipo al samolabbra Te lo rimetto Ok Voilà Allora Spazzoliamo i capelli Quindi, sì Perfetto Girati Voilà Perfetto Così vedono tutti i tuoi bellissimi capelli Ecco, guarda i capelli Che lucentezza, ragazzi Rilassati tu, eh Non ti faccio male Stai tranquilla Rilassati 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, perfetta tesoro, sei una meraviglia. Come sempre. Allora io adesso ti leggo i capelli e ti metto la mascherina sul viso, sugli occhi soprattutto. Ma tu le metti mai due fette di citerioro sugli occhi? No, vabbè, ti sei rilassata, lo vedo, sì, lo vedo. Ti sei anche asciugata perché qui dentro fa caldo rispetto a fuori. Ok, adesso ti leggo i capelli un secondo, eh. Ti rigiro a favore di camera. Voilà. Stai perdendo un po' di capelli però, eh, tesoro. Peccato, peccato. Dobbiamo fare qualcosa. La prossima volta facciamo una... Usiamo delle fialette anticaduta, sì. Sì, sì, sì. Mi servono anche a me. Mi servono anche a me. Comunque stai bene, vero, sì? Tutto bene, sono contenta, dai, meno male. È da tanto che non ci vedevamo. Sono contenta se stai in salute, se sei in salute, se stai bene. Se va tutto bene nella tua vita? Sì. Sì, sì, sto bene, grazie. Non ti preoccupare, tutto bene, tutto, 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 tutto bene, tutto bene. Basta che ti rilassi e quando ti vedo rilassata io sono felice. Quando sei rilassata tu sono felice io. Ok, così. Ecco. Adesso ti leggo i capelli e ci rilassiamo e chiacchieriamo ancora un po' insieme, ok? È sempre bello il tapping, sì, ti piace, lo so. Lo so, anche a me piace tanto. Voilà. Ok. Hai dei capelli bellissimi comunque, cara mia, tesoro mio. Ecco di qua. Bella anche coi capelli legati, stai una meraviglia. Allora, adesso facciamo un po' di brushing. C'è sempre questo cortino, c'è sempre questo cortino, chokerino. Ecco, choker, sì, non mi veniva la parola. Choker. Choker. Sul collo viola. E adesso ti uso questo pennello bellissimo. E adesso ti uso questo pennello bellissimo. Se ti piace la candela. Quando è notte è ancora più bella quella candela perché fa proprio ambientazione. Adesso sì, c'è tanta luce che riflette sul tuo viso. Però, comunque, è bella lo stesso, anche se non profuma, quella candela di Halloween. Tu hai festeggiato Halloween per caso? No, io no, assolutamente. Facciamo un po' di brushing. Rilassati, mi raccomando, il più possibile. Rilassati. Rilassati. Chiudi gli occhi anche se vuoi, certo. Relax, relax. Che bella che sei, una meraviglia. Rilassati, rilassati. Questo è troppo spesso, però non è tanto morbido, vero? Troppo spesso, questo è troppo spesso. Però è bello il brushing, vero? È rilassante, il brushing camera è rilassante. Un po' su di te, un po' su di me. Bellissimo. Anche qui il vestito è un po' scollato, quindi va bene. Possiamo accarezzarti meglio, il tè col tè. Il collo, anche se hai questo choker, questa collanina di tessuto. Bellissimo. Le braccia. Le braccia. Non ti faccio male, vero? Eh certo. Anche prima con la spazzola non ti ho fatto male. Certo, io faccio con calma, sono delicata. Sul nasino, sulla fronte, con questo magnifico ciuffo biondo, veramente bello, di cornice al viso. Bello, bello, bello. Sugli occhietti, sulle gote, sulle guanciotte, 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 guanciotte. Sul mento, sulle guance, sul mento. Brush, 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 sul collo. Sul collo. Brush, 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 sul collo. Sull'altra guanciotte, 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 guanciotte. Sulla fronte, sull'altro occhietto, sul mento, destro, sinistro. Bellissimo. Tu, bel vestito rosa. Bello, veramente, 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 veramente bello. Ok, adesso ti metto la maschera sul viso, e così se hai voglia di fare un pisolino puoi anche dormire. Ok, certo, puoi anche dormire qui, senza problemi, proprio. Ok, ti metto la maschera adesso, eh. Te la applico così, guarda, sì. Perché se la tolgo, poi, la vogliono usare tutti, su di te la uso così. Questa è da usare così, senza aprirla oggi, te la uso così. La prossima volta magari te ne userò un'altra, solo per te, ok? Chiudi gli occhi. Rilassati. La mettiamo anche su di voi. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. E buonanotte. Chiudete gli occhi. Buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte. Chiudete gli occhi. La mettiamo anche su di voi, questa maschera. Chiudete gli occhi. Buonanotte, 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 buonanotte.